buongiorno, buon sabato allora, sono le nove siccome ormai sono abituata a svegliarmi presto e non c'è verso il sabato e la domenica di dormire un po' di più ho deciso di sfruttare questo momento per fare un video nel precedente video avevo chiesto se eravate interessati a scoprire cosa c'era di nuovo nella mia libreria cosa sicuramente leggerò nei prossimi giorni ma anche nei prossimi mesi perché purtroppo ho notato che è un periodo che sto andando a rilento perché la sera arrivo molto stanca e sto tutto il giorno fuori e veramente prima di andare a dormire non riesco ad andare al di là delle dieci pagine che crollo come un sasso quindi sto andando un po' a rilento e quindi letture dei prossimi giorni è molto ottimistica la cosa diciamo mesi va allora innanzitutto abbiamo uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette più quello che sto leggendo adesso vi faccio vedere quello che sto leggendo adesso per primo cominciamo così a bomba va tanto voi siete curiosi me l'avete detto allora adesso sto leggendo le affinità elettive di Goethe Goethe come si dice? chi è che sa il tedesco e mi illumina? sto a pagina 12 quindi tra l'altro guardate quanto è bella la copertina ebbene sì lo volevo leggere ma questa edizione l'ho presa anche per la copertina sette euro ce ne sono tantissime di edizioni quindi se non trovate questa che è dell'aggiunti ma non so come si chiama in particolare questa collana ce ne sono di vari editori io ho preso questa perché mi piaceva troppo il vestito di lei sono molto medievale è bellissima ragazzi quindi volevo leggerlo in più ho trovato una bella edizione carina allora questo lo rimettiamo qua poi due acquisti che già sono andati nel senso che li ho già letti sono sempre digiunti ho preso amore psiche di Apuleio questo praticamente è uno stralcio delle metamorfosi fa parte dell'opera delle metamorfosi e ah non vi ho detto le pagine delle affinità elettive ha ha buongiorno allora le pagine sono 315 metti a fuoco ti possi no? quindi sto a pagina 12 ma sto a cavallo proprio allora Apuleio amore psiche guardate che bella con la statua del canova dovrebbe essere del canova dovrebbe essere del canova vabbè al limite ne ho detta un'altra delle mie ma sono quasi sicura che sia del canova è bellissima perché l'ho vista e mi è rimasta impressa di solito io con le statue non è che vado molto d'accordo né con le statue né con i dipinti però ci sono alcuni che veramente mi colpiscono e mi rimangono impressi la statua di la scultura la scultura perché chiamarla statua è veramente riduttivo la scultura di amore psiche ragazzi favolosa e non mi chiedete dove l'ho vista perché non me lo ricordo 157 pagine però c'è il testo latino a fronte quindi le pagine si dimezzano perché voi dovrete leggere solo questa beh chi è appassionato di mitologia e chi è romantico non può perdersi questa bella storia molto molto bella l'ho letta in pochissimo tempo anche questa invece l'ho pagata 5 euro morirei cento volte piuttosto che rinunciare a questa dolcissima unione con te chiunque tu sia io ti amo ti adoro come la mia anima beh vabbè passiamo oltre va quindi questo è andato questo è andato un altro libro che avevo comprato e che ho letto Ruth Nestwald La fiamma e l'arpa questo qui è un fantasy praticamente sarebbe la versione in chiave fantasy come c'è scritto dell'intramontabile vicenda di Tristano Isotta allora di questi due non esiste più un testo pubblicato quello classico non esiste più me l'hanno detto da in libreria quindi io che assolutamente volevo leggere qualcosa mi sorpresa questo che era in chiave fantasy è un bel mattoncino è di Armenia le pagine sono aspetta eh perché qui c'è anche il vocabolario 561 vabbè quella è 560 beh mi aspettavo molto di più allora se preso solo come romanzo fantasy lasciando stare tutto quello che c'è dietro la vicenda ormai che è un classico è diventata leggendaria senza prendere quella è un buon fantasy ma se prendi in considerazione la storia madre che ha ispirato Ruth Nesfold non ci azzecca niente non ci è piaciuto basta allora veniamo in veniamo invece a quelli che saranno le mie prossime letture allora ne ho sentito parlare tantissimo di questa di questo romanzo e ho voluto voluto prenderlo assolutamente ovvero di Ishigawa quando cadrà la pioggia tornerò di Salani Editore è copertina rigida e l'ho pagato 13 euro le pagine non sono tante ho notato che è anche scritto molto 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 largo quindi penso che questa sarà una lettura da ma neanche da weekend da sabato se riescessi a farvi vedere 265 pagine guardate quanto è scritto grande quindi questo qui poi è piccolo questa è la mia mano la mia brutta mano cioè è piccolissimo ragazzi è piccolissimo niente lettura strappalacrime l'avevo letto quindi io che sono molto sensibile e molto empatica quindi sicuramente mi lascerò coinvolgere vedremo che cosa ne uscirà se qualcuno l'ha già letto magari mi consiglia una marca di fazzoletti che riescono a affronteggiare il fiume di lacrime no vabbè scherzo veramente se qualcuno ha letto qualcosa di qualche libro che vi mostro in questo video mi faccia sapere come si è trovato le sue impressioni sono molto curiosa sono molto 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 curiosa quindi vedremo come va qui dice sentimenti forti passioni invincibili un giappone neoromantico che per la prima volta non teme di mettersi a nudo dell'espresso io mi fido poco di quello che scrivono qua dietro eh però vediamo Takuji Ishikawa sicuramente Chiara che sa un po' di giapponese mi aiuterà a correggere la mia pronuncia che sicuramente sarà sballata va bene questo è uno non so se sarà il prossimo perché magari io mi dico dalla fine di questo mi leggo quest'altro poi alla fine finisco un libro e cambio idea magari mi lascio trasportare poi giuro che non vi dico niente perché ormai lo so vi ho vi ho scassato abbastanza vi faccio solo vedere la regina della rosa bianca il primo romanzo della serie la guerra delle due rose perché il secondo è la regina della rosa rossa che ancora non è uscito in edizione economica questo è 10 euro e 50 della Spurling Paperback guardate quanto è bella la copertina ma non l'ho preso per la copertina tutti quanti lo sanno ormai anche i muri che ho fatto il fioretto di leggermi tutto quindi basta vi risparmio da altre cose non ne potete più lo so non ne potete più di sentirmi parlare che poi si mi piace come scrittrice però veramente mi sto rendendo conto che da quando ho aperto il canale sto parlando tantissimo di questa scrittrice veramente e magari sto parlando poco dei romanzi che amo alla follia tipo Jane Eyre Cime Tempestose mi soccorta di questo scusate o di Jane Austen vabbè poi voi sapete che io non compro su internet perché non ho le carte prepagate non ho i mezzi i cosiddetti mezzi elettronici di pagamento e devo limitarmi alla bella buona e vecchia passeggiata in libreria che però però nasconde delle sorprese dietro l'angolo perché io passeggiando in libreria scopro delle cose delle quali non sapevo l'esistenza per esempio romanzi dai quali sono stati tratti dei film e io non sapevo che questi film fossero stati ispirati da un romanzo che magari non lo so ho visto un film mi è piaciuto me lo sono rivisto 40.000 volte ma senza sapere che dietro l'ispirazione è nata da un romanzo e questo è stato il caso cioè veramente sono stata fulminata quando l'ho visto guardate che sono riuscita magari la prima volta l'ho scoperto solo adesso io ho fatto la scoperta e l'acqua calda ma guardate che cosa ho trovato nei miei vagabondati nel mio vagabondare e nel mio pellegrinaggio l'acqua calda perché c'era questa è tea e c'erano alcuni romanzi della tea che erano al 25 e c'era questo è stata fulminata proprio sulla via di damasco appena l'ho visto ho detto oddio no deve essere mio io ho adorato quel film non sapevo fosse tratto da un romanzo beh che faccio lo lascio lì mi stava già facendo gli occhietti dolci questo libro quindi ecco vedi eh vedi io per la foga senza guardare vabbè chi se ne frega anche qui vabbè dai quante pagine sono questa è l'indice ce la posso fare no vabbè dai c'è scoperta indiretta ragazzi no la pagina è tagliata vabbè 433 433 più la nota dell'autore ora io non so se mancano solo le le ultime madonna cioè vabbè questo vedete non faccio edit io sta tutto a posto il resto non faccio edit perché in questo momento un bel taglio ci sarebbe stato bene ragazzi è tagliato male è proprio il finale tagliato non ci posso dire vabbè tanto il finale lo sappiamo però si tratta si tratta proprio di 4 righe ma chi se ne frega l'importante è che lo leggo poi il finale al limite lo cerco su google me lo leggo da lì vabbè tutto live qui eh ci sono rimasta male devo essere sincera vedi bisogna sempre controllare quello che si compra c'ha ragione mia nonna e anche mia madre qualsiasi cosa si compra una volta usciti dal negozio devi sempre controllare ecco io come buona faggiana come una tacchina questa volta non ho controllato e guarda qua il bello è che l'ho preso io ho il vizio di prendere sempre l'ultima cosa in fondo allo scaffale proprio perché ho paura che le prime la gente prendendole le rovini ecco questo è stato preso dall'ultimo libro che c'era nello scaffale mi sono beccata quello rovinato vabbè comunque io non sapevo che si ragazzi sono emozionatissima non sapevo che esistesse il romanzo poi dove siete seduti sul divano sulla poltrona sulla sedia sul letto col portatile non importa dovunque voi siete seduti io voglio che adesso al mio tre facciate una bella standing ovation perché perché finalmente l'ho trovato dopo lungo peregrinare finalmente l'ho trovato e l'ho preso pure in saldo quindi l'ho pagata ancora di meno tre due uno alzatevi yeah finalmente l'ho trovato le notti di Salem di Stephen King della Sperling Paperback questo è 12,90 ma io l'ho comprato con lo sconto del 25% perché era il periodo dei saldi e tra l'altro mi sono anche beccata l'edizione rivista è illustrata infatti ci sono le fotografie fotografie molto allegre ne faccio ah qui c'è il segnalibro con il nuovo libro pubblicizzato di Stephen King ah questa non l'avevo mai vista un buco praticamente le notti di Salem per chi non lo sapesse sono una serie di racconti parte 1 parte 2 e parte 3 casa Marsten l'imperatore del gelato che non ha molto di orribile come titolo anzi sembrerebbe tipo la fabbrica di ciocco tipo umpa lumpa e il viaggio deserto vedremo vedremo questo è uno dei più vecchi di Stephen King mi sembra addirittura forse il primo uno dei primi non sono sicura non vorrei fare brutta figura però non vedo l'ora di leggerlo perché non si trova spesso questo in liberia eh questo secondo me l'hanno rifatto perché è edizione illustrata perché le vecchie avete visto il mio video sui libri di Stephen King le vecchie edizioni della Sperling Paperback quelle economiche quelle si trovano ancora dovunque anche al supermercato però questo qui in particolare è difficile trovarlo in quell'edizione secondo me è stato rifatto proprio così per non so forse per qualche occasione perché è difficile proprio trovarlo a meno che non lo compri online ma io non posso rinunciare alle mie passeggiate che mi fanno scoprire mi fanno scoprire delle chicche assolute come quella che lasciamo perdere che le ultime due pagine sono vabbè non mi ci fate pensare però non vedo l'ora di leggerlo anche se come vi ho detto prima alla fine di un libro mi prometto sempre di leggere questo poi invece alla fine è slittato di due nel senso io ho preferito altri due libri perché sto aspettando il momento adatto per leggerlo perché non voglio leggerlo nel momento sbagliato per non apprezzarlo perché Stephen King si merita si merita tutta l'attenzione che hai a disposizione anche perché se no non capiresti quello che dice perché un indizio che te lo dà a pagina 1 poi te lo ritrovi a pagina 400 e se te lo dimentichi hai finito bene io vi rifaccio la carrellata guardate questo 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 e quello che sto leggendo nelle buste ah tra l'altro questo non vi ho detto quanto l'ho pagato questo costa 18,50 euro è uscito da poco mi sembra mi sembra da 1 o 2 anni e il prezzo non è ancora stato abbassato 18,50 euro però io che cosa ho fatto sono andata da mail book store al reparto dell'usato e l'ho pagato 9,25 euro l'ho pagato col 50% di sconto questo libro è nuovissimo cioè io penso che chi l'abbia letto l'ha letto tipo solo le prime 50 pagine non lo so l'unico l'unico punto dove era un po' rovinato ma che non si vede neanche tanto più vedete questa linea qua prima era molto più scavata questo perché evidentemente per riporlo in libreria o negli scadoloni o sugli scaffali qualcuno ha fatto forza per infilarlo e ha un po' scalfito le pagine è veramente una cavolata infatti la pagina se vedete non è rovinata 50% la metà l'ho pagato la metà perfetto le righe qui ce le ho fatte io perché per leggerlo purtroppo l'ho dovuta aprire perché altrimenti se no questa parte era perfetta era un libro perfetto appena uscito dalla stampa c'erano addirittura i pezzettini del del sapete quando le macchine che tagliano le pagine che a volte rimane la polvere oppure i pezzettini di carta c'erano ancora quelli quindi secondo me chi lo ha comprato la prima volta ha letto solo le prime 50 pagine e poi non l'ha finito e l'ha venduto e questo mi fa piacere perché ho avuto la possibilità di prenderlo io a me fa comodo quindi anche chi non so all'usato si trovano anche occasioni per carità non vi fate ingannare dal fatto che è un pochino scalfito qui cioè alla fine non importa voi pensate solo lo sto pagando la metà posso sorvolare sopra questo piccolo incidente di percorso certo ragazzi io vi giuro questo libro era perfetto non c'è un graffio nella copertina queste righe non c'erano l'ho fatta io per leggerlo per stare comoda i bordi erano perfetti quindi alla fine oh pagato la metà posso passare pure sopra questo piccolo incidente quindi questo è stato anche un affare va bene questo è tutto spero che la vostra curiosità sia stata soddisfatta siete proprio delle vecchie portinaie che volete sapere ma anche io mi ci metto in mezzo perché io sono curiosa più di voi niente non mi resta che salutarvi vi ripeto questo è quello che sto leggendo questi due ops le corna non si fanno questi due li ho letti se siete interessati a uno dei due non so ditemi ditemi la vostra ah e vabbè però quelli ve li ho fatti vedere altri libri che ho letto in questo periodo sono stati va bene It's che ho fatto il video l'ultimo video e poi la trilogia di Pullman di Philip Pullman queste oscure materie bellissima i miei fantasy preferiti proprio con prepotenza hanno accolto quella trilogia è bellissima quindi è entrata di diritto a far parte delle delle saghe fantasy che io amo non c'è altro da dire provai parecchie volte ma parecchie volte nel senso 5-6 volte a girare un video di quel libro ma ogni volta che cominciavo a parlare mi inceppavo perché ci sono talmente tante cose da dire e talmente tante cose da non svelare che è impossibile parlarne imbastendo un discorso che abbia un qualche senso e poi qualsiasi cosa dicessi riguardo a quel romanzo a quella trilogia sarebbe riduttivo è bellissima è bellissima io non so se veramente qualcuno è interessato a sentire un discorso sconclusionato su quella trilogia se me lo chiedete io ci provo a farlo altrimenti sappiate che ho letto quello non ho fatto il video non perché non mi è piaciuto anzi lo adoro lo amo adesso è uno dei miei fantasy preferiti non faccio il video solamente perché tutto ciò che potrei dire sarebbe inutile perché sarebbe riduttivo quindi avete visto quel libro di solito quando vi faccio vedere un libro e poi non ne parlo è perché magari non mi è piaciuto infatti mi avete visto avete visto Ineritance ma mi avete sentito parlare di Ineritance che è l'ultimo di Aragorn e ci sarà un motivo eh eh quello di Pullman non è questo il caso però non lo so se potrei provare se qualcuno fosse veramente interessato ma proprio tanto interessato perché poi è una lettura che vi porta via tanto tempo non è semplice da leggere quindi non so fate delle ricerche su internet leggetevi le trame non solo del primo che ormai lo sanno anche i sassi di cosa parla ma di tutti e tre se vi interessa io posso provare a dire la mia in qualche modo magari mi faccio una scaletta e mi segno quello che devo dire l'unico modo è per ricordarsi quasi tutto bellissimo comunque cioè da dieci e lode quel romanzo quella trilogia va bene io sono ancora in pigiama forse è ora che mi mi alzi dal letto niente vi saluto buon weekend godetevi un po' di bel tempo finalmente qui a Roma finalmente ha smesso di nevicare e abbiamo rivisto il nostro amato sole che anche d'inverno non ci abbandona quasi mai quindi niente basta vi auguro a tutti un buon fine settimana ciao ciao